Nuova allerta meteo di colore giallo sul Friuli Venezia Giulia, diramata oggi dalla Protezione Civile. Gli esperti dell'ARPA annunciano temporali forti, vento e pioggia a partire da stasera fino alle 6 del mattino di venerdì 13 settembre. Già da questa sera probabilmente avremo i primi temporali sulla regione, non è escluso forse anche qualche temporale un po' più forte, con piogge intense e con qualche raffica di vento. Poi durante la notte continueranno dei rovesci e domani in mattinata di nuovo ce l'ho coperto su tutta la regione, di nuovo piogge temporali, piogge che saranno un po' più insistenti, quindi intensi o localmente molto intense, specialmente sulle prealpi Giulia, sulle zone orientali, forse anche localmente su qualche zona di costa dove potrebbe esserci ancora qualche temporale un po' più forte. Sulla costa soffierà vento da sud sostenuto che potrà determinare una breve mareggiata. Dal pomeriggio sulla pianura e sui monti soffierà vento sostenuto da nord, in serata bora forte sulla costa. Arriverà la massa di aria fredda sulle Alpi, scenderà dalle montagne verso la pianura e la costa, quindi sentiremo raffiche di vento anche da nord in pianura attorno ai 60-70 km all'ora, forse con cosina di più anche sulla costa. In arrivo anche la prima neve sui monti e ovunque un brusco calo delle temperature. L'aria fredda naturalmente porterà un calo delle temperature anche in montagna, per cui già dal pomeriggio la quota neve scenderà con una nevicata che probabilmente sarà abbondante attorno ai 2.200-2.200 metri circa, ma la neve nel corso delle ore scenderà di quota probabilmente fino a 1.000 metri circa sulle Alpi, fino a 1.500 metri circa sulle Prealpi e questo è forse la cosa più inusuale di questo maltempo, con una nevicata così consistente, a quote così relativamente basse per il periodo dell'anno.